Siamo alla vigilia di una trasferta abbastanza complicata perché incontriamo Rishon che è una formazione che ci ha messo in difficoltà all'andata con un gioco abbastanza sporco, tant'è che poi siamo riusciti ad avere la meglio solo nell'ultimo quarto, quindi per noi sarà fondamentale iniziare con un impatto fisico importante. Sappiamo che loro, a parte essere terzi in campionato, hanno battuto nell'ultima gara il Pinar Carciaga, quindi una delle squadre forse più fisiche del nostro girone. Quindi sarà importante impattare l'atletismo non solo dei lunghi ma anche dei piccoli che hanno poi una discreta esperienza perché nei vari giocatori esterni tipo Ben Cimollo, Anoci hanno grandi minuti di pallacanese internazionale. Fra l'altro è una formazione che presenta quattro giocatori superi 30 anni, quindi anche molto brava a gestire momenti caldi. Sappiamo che c'è da chiedere uno sforzo ulteriore ai nostri giocatori sul piano fisico, sul piano mentale, perché la formazione è incompleta dal momento che andremo comunque senza Tonut e con Filloi che sarà schierato solo per numero, però senza possibilità di andare in campo. Quindi abbiamo bisogno di uno sforzo importante da parte di tutti.